Ciao mimmi, benvenuti a un nuovo lavoretto creativo. Oggi vi mostrerò una nuova tecnica per colorare. Ci serviranno un foglio, dell'acqua, una forbice della punta arrotondata, un pennello e della carta velina. Iniziamo prendendo la carta velina e la tagliamo a quadratini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso prendiamo il nostro foglio bianco e spargiamo i pezzettini che abbiamo fatto di carta velina sul foglio. Una volta fatto questo passaggio, con il pennello e l'acqua andiamo a tamponare sopra i foglietti delicatamente. del pennello. Grazie. A questo punto lasciamo asciugare completamente. Adesso togliamo tutti i foglietti di carta velina. ed ecco il risultato finale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.